Tragico mistero, dovranno capire se si sia trattato di suicidio o di un'accidentale perdita di gas i periti che indagano sull'esplosione avvenuta nella notte a Catania e che ha causato la morte di tre persone di cui due vigili del fuoco. Al vaglio anche i racconti di alcuni testimoni che sosterrebbero che uno dei pompieri avrebbe erroneamente innescato la deflagrazione. Bollettino di guerra. Sette femminicidi ogni anno in media in Sicilia e quasi sempre per mano di mariti, compagni, fidanzati o ex. Le statistiche prendono in esame gli omicidi consumati senza tener conto dei tentati, delle violenze e delle aggressioni. Il catalogo che piace ha messo d'accordo quasi tutti il nuovo bando della formazione professionale siciliana presentato il mese scorso dall'assessore Lagalla. Incontro tra enti e regione con quelli più antichi che polemizzano per la formula che li metterebbe in svantaggio rispetto ai nuovi enti. Ancora attesa. Concluso l'iter processuale con l'ultima udienza svoltasi questa mattina al Tribunale di Palermo sullo sfondo dell'istanza di fallimento del Palermo Calcio. Si attende la decisione dei giudici del capoluogo. Ben trovati, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione da Lorenzo Anfuso e da tutta la nostra redazione. Oggi il giorno del cordoglio, il giorno dei perché su quanto accaduto ieri notte a Catania. Una deflagrazione che ha squarciato il sonno di molti catanesi. Avvenuto naturalmente anche prima della serata. Molti misteri da risolvere per gli investigatori che non escludono l'ipotesi di un suicidio per quanto avvenuto l'esplosione a Catania. Testimoni parlerebbero di un errore fatale commesso da uno dei due pompieri rimasti uccisi. Un suicidio o una perdita di gas? È questo il dubbio principale dei periti nominati dalla procura di Catania sulla violenta esplosione avvenuta la scorsa sera in una palazzina tra via Garibaldi e via Sacchero dove adesso all'ingresso vi sono delle grosse travi di legno posizionate per vietarne l'accesso. A perdere la vita i due vigili del fuoco Dario Ambiamonte di 40 anni e Giorgio Grammatico di 30 giunti in soccorso del 75enne Giuseppe Longo, anche lui deceduto, che viveva e lavorava all'interno dell'abitazione. Gli investigatori dovranno adesso accertare le dinamiche della deflagrazione. Dai primi sopralluoghi effettuati nella notte sembrerebbe infatti che l'esplosione sia avvenuta dall'interno verso l'esterno come dimostrerebbe la porta dell'edificio, sbalzata per alcuni metri e poi caduta su un'auto parcheggiata. Gli agenti si interrogano sul perché l'anziana vittima non abbia aperto nulla all'interno della casa una volta avvertito l'odore di gas, motivo per cui, oltre all'ipotesi di un suicidio, non esclusa quella di un malore causato dall'esalazione del gas che avrebbe colpito il 75enne. La squadra, composta da cinque pompieri, era arrivata a seguito dell'allarme lanciato da alcuni vicini su una presunta fuga di gas. Giunti sul posto, stando a racconto di alcuni testimoni, tesi ancora ad accertare, uno dei vigili del fuoco avrebbe utilizzato una motosega per tagliare la porta, ma una volta a contatto con il catenaccio, le conseguenti scintille avrebbero innescato l'esplosione che ha ucciso Grammatico e Ambiamonte. Gli altri due pompieri, di cui uno in gravi condizioni, si trovano all'ospedale Garibaldi in prognosi riservata, mentre l'altro componente della squadra risulterebbe illeso, seppur sotto shock. A seguito dell'esplosione, il corpo del 75enne è stato ritrovato completamente carbonizzato, non escluso dunque che venga disposta l'autopsia sul corpo delle tre vittime. Ed è una Catania sconvolta, quella risveiatesi stamattina, che si stringe attorno ai familiari delle vittime della tragica esplosione. Esprimiamo profondo cordoglio per la morte dei nostri colleghi, ha commentato il presidente del fronte italiano per il lavoro e la partecipazione ai vigili del fuoco, Fernando Cordella. Difidiamo chiunque ad astenersi dei commenti nel merito del loro operato. Sono aperte tutte le ipotesi sulle cause del tragico incidente. Vicino alle famiglie dei vigili deceduti e di quelli feriti, anche il sindaco di Catania, Enzo Bianco, sono qui dove c'è stata l'esplosione, ha dichiarato il primo cittadino una volta giunto, davanti alla palazzina in via Garibaldi. Una vera e propria tragedia. Esprimere profondo dolore per l'esplosione è avvenuta anche il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, a nome della giunta di governo. Anche il capo dello Stato, Mattarella, ha espresso il suo cordoglio. Ultiamo pagina. Ogni anno in Sicilia si contano sette femminicidi, quasi sempre all'interno della casa familiare. Le statistiche non tengono conto però dei tentati omicidi, che sono ovviamente molti di più delle aggressioni e delle violenze, molto spesso denunciate o non denunciate dalle stesse vittime. Sette femminicidi ogni anno in media in Sicilia e quasi sempre per mano di mariti, compagni, fidanzati o ex. I recenti fatti di Canicattini Bagni nel Siracusano non sono che l'ultimo tragico epilogo di una fin troppo lunga lista di vittime. In questo caso l'assassino, il compagno della giovanissima Laura Petrolito, ha confessato agli inquirenti di averlo uccise e nascosto il corpo della ventenne in un pozzo. La gelosia, le continue liti con il padre del suo secondo bambino e poi le ferate aggressione con almeno 16 coltellate. Per Paolo Cugno è il giorno dell'udienza di convalida del fermo. Una storia triste con un epilogo drammatico in cui oltre alla vittima di prima linea si sommano le vittime secondarie. Chi resta? Bambini orfani, genitori senza una figlia. I numeri e le statistiche non raccontano poi i tentati omicidi che da soli sono diventati fenomeni incontrollabili e di complessa gestione. L'ultimo caso di violenza in famiglia è avvenuto ad Agusta. Denunciato in passato per aggressioni, aveva anche bruciato gli abiti della compagna. Un quarantenne non avrebbe rispettato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Così, dopo aver raggiunto la donna nei pressi di un bar, l'avrebbe minacciata di morte con un coltello. L'uomo è stato arrestato, così come un altro fermo è avvenuto a Ragusa. Uno scafista, sbarcato a Pozzallo nel 2017, infatti, evadeva gli arresti domiciliari per stuprare l'ex compagna. La donna ha raccontato alla polizia le sevizie subite, bruciature di sigaretta, minacce di morte, si avesse chiamato la polizia. Il ganese è stato arrestato per violenza sessuale ed evasione. Qualche giorno fa, un uomo aveva tentato di dare fuoco alla compagna, cospargendola di carburante, dopo averla picchiata in pieno centro a Caltanissetta. È stata la donna a denunciare il suo aggressore, Maurizio Salute, e farlo arrestare dalla polizia. Tutto questo anche per ricordare che il crimine non è una questione di razza. Cambiamo argomento, una corsa contro il tempo, in cui di certo non mancheranno ostacoli, come sempre. È stata rinviata ad oggi la seduta a Palazzo dei Normanni per fare il punto su bilancio e finanziaria, la cui scadenza è fissata al prossimo 31 di marzo. A Sala d'Ercole manca ancora una volta la maggioranza e l'opposizione chiede così l'intervento di Nello Musumeci. Tutto rinviato, tanto per cambiare, a Palazzo dei Normanni. In attesa dell'approvazione di bilancio e finanziaria in una corsa contro il tempo, fissata al 31 marzo, Sala d'Ercole si ritrova a dover esaminare il cosiddetto stralcio dell'esercizio provvisorio del bilancio della regione. Un DDL composto da sei articoli, soltanto che in aula non si è andati oltre la discussione dei primi due, rinviando dunque l'appuntamento ad oggi. Accantonato su proposta del presidente dell'ARS, Gianfranco Micicchè, il primo articolo relativo all'interpretazione autentica di norme in materia di personale delle società partecipate, giunti al momento dell'esame dell'articolo 2, la maggioranza è andata nuovamente in tilt per mancanza del numero legale. Non c'è la possibilità di andare avanti in maniera serena sui temi, ha commentato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Valentina Zafarana. Il voto che ha fatto andare sotto questa maggioranza ci pone dinanzi la mancata compattezza della maggioranza e del governo. Pronta la replica di Alessandro Ericò, capogruppo di Diventerà Bellissima, che ha sottolineato come il governo non abbia la bacchetta magica, ribadendo anche che a l'ARS non c'è una maggioranza. A rincarare la dose nell'Odi Pasquale del PD, non possiamo continuare così, ha sentenziato, che vengamo su Mecinaula a farci capire come intende proseguire non solo con finanziaria e bilancio, ma anche su come intende andare avanti sui problemi che riguardano la nostra isola. A rinviare la seduta ad oggi, dunque, per mancanza di condizioni idonee, infine è stato l'assessore al territorio ambiente, Totò Cordaro, richiesta quest'ultima accolta da Micicè. E proprio sui numeri della maggioranza, questa mattina il governatore Musumeci ha dichiarato come debba esserci una nuova legge elettorale, un altro degli obiettivi della sua legislatura, stretto giro di posta. Il mese scorso parliamo adesso di formazione professionale, la conferenza di presentazione da parte dell'assessore Lagalla, ma anche il nuovo bando catalogo della formazione siciliana, accolto positivamente da quasi tutti gli enti, si trova a rischio ricorsi. Gli enti storici si dicono delegittimati rispetto a quelli nuovi. Un modello apprezzato da tutti, definito addirittura rivoluzionario, ma che potrebbe non sfuggire allo stagio dei ricorsi. Incontro ieri in commissione parlamentare tra rappresentanti degli enti, sindacati e governo regionale, per discutere del recente bando catalogo della formazione professionale siciliana. Un meccanismo che consentirebbe di superare tutte le problematiche legate alle valutazioni dei progetti, in passato oggetto principe dei ricorsi degli enti esclusi, e che soprattutto capovolge il sistema così come lo si conosceva, dal momento che, al posto dei famigerati finanziamenti a pioggia dall'alto, sarebbe l'allievo a regolare quanto un ente andrebbe a ricevere, scegliendo liberamente il corso migliore per se stesso. Un modello applicato già in altre regioni, che però non prevede limitazioni. Tutti gli enti partono ad armi pari, e chi è più competitivo e riesce a offrire corsi più appetibili godrà di un maggior finanziamento. Noi non possiamo che essere soddisfatti perché, ripeto, comunque questo tipo di avviso per loro è già così come il rivoluzionario. Intumulto gli enti storici, che al fine di tutelare i propri dipendenti, in numero superiore a quelli più giovani, hanno posto il problema della maggior competitività di questi ultimi, che dunque sarebbero agevolati dal bando, così come scritto dall'assessorato diretto da Roberto Lagalla. L'impressione è quella che si facciano passi avanti rispetto al passato. Tutto è perfettibile e immiverabile, ma controlliamo che ci vorrà tempo. 18 anni di lavoro e mai un contratto, una copertura previdenziale, tornano in piazza gli ex PIP di Palermo, per tre giorni in sit-in, davanti alla sede della regione, salvi invece i 71 lavoratori delle profumerie Cocoon, che migreranno in nuove società. Tre giorni di sit-in, a partire da oggi, davanti alla presidenza della regione a Palermo, tornano a manifestare gli ex PIP a causa dei ritardi nei pagamenti dei sussidi, legati al mancato rinnovo della convenzione con l'Inps. I lavoratori, inoltre, puntano alla stabilizzazione, per la quale è stato chiesto un tavolo tecnico. Dopo 18 anni di lavoro nell'amministrazione pubblica, senza regolare contratto e quindi senza copertura previdenziale, ha dichiarato Maria Grazia Guttuso, di RSA Filcam CGL Palermo, continuiamo ad essere dei fantasmi, senza diritti e senza tutele. La nostra condizione è una vera e propria contraddizione. Percepiamo un sussidio, lavoriamo sei ore al giorno, ma non possiamo definirci lavoratori, perché non abbiamo un'assunzione. Sono invece salvi i 71 dipendenti dei negozi Cocoon, firmato l'accordo con i sindacati, per garantire il passaggio dalla società Sipro, fin liquidazione, alla società siciliana Viola Profumerie. A comunicarlo è la Wictus regionale. Al centro della trattativa, c'era l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti di profumeria e di cura della persona. In tutto sono 14 i punti vendita interessati, di cui 11 a Palermo, e gli altri a Castelvetrano, Sciacca e Bagheria. Con questa acquisizione, la Viola si propone di diventare leader del settore in Sicilia. Dopo l'accordo sul personale, si passerà alla cessione da formalizzare entro aprile. Il prossimo obiettivo per i sindacati è trovare un'occupazione per i 27 dipendenti attualmente impiegati in amministrazione e magazzino, non oggetto di trasferimento in ramo. Nuovo caso di violenza contro le insegnanti, denunciato dai carabinieri per avere aggredito la maestra del figlio di 10 anni, che frequenta l'istituto comprensivo Ignazio Florio, a Palermo. La donna è stata colpita al volto con un pugno e minacciata di morte dopo che si era lamentata con l'uomo per le ripetute assenze del bambino. L'insegnante è stata portata in ospedale con prognosi a sei giorni. Autore del gesto Maurizio Bronzellino, un precario di 43 anni che in passato ha lavorato nello stesso istituto, frequentato dal figlio. L'uomo aveva chiesto un permesso per far uscire il bambino prima dell'orario di fine lezioni, ma a rifiuto dell'insegnante per via del cattivo andamento scolastico dell'alunno e delle tante assenze accumulate, Bronzellino, con già diverse denunce per risse percosse, ha aggredito la maestra. L'uomo a giugno era stato denunciato perché aveva lasciato il bambino solo in auto mentre era andato a giocare con le slot machine. Domenica 10 giugno si voterà in 137 comuni siciliani. L'assessorato regionale delle autonomie locali si appresta a varare il calendario delle operazioni elettorali, ma già la data c'è. Verrà pubblicato domani sul sito del Dipartimento Autonomie Locali, afferma l'assessore Bernadette Grasso, oltre 1.700.000 siciliani che andranno alle urne per eleggere i sindaci di 137 comuni, anche se fino al 12 aprile, data ultima per la pubblicazione del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali, potremmo anche inserire altri comuni. Il voto è previsto in 16 comuni nell'Agrigentino, tra cui Licata, 6 nel Nisseno, il più grande Riesi, con quasi 12.000 abitanti, 22 in provincia di Catania, tra cui lo stesso capoluogo, lo sappiamo, 7 a Denna, il più grande Piazza Armerina, 35 nella provincia Peloritana, compresa la città di Messina, 26 a Palermo, tra cui Partinico, con i suoi 31.000 abitanti, 4 nella provincia Eblea, con Ragusa, 8 nella provincia Aretusea, si voterà anche a Siracusa, 13 a Trapani, tra cui anche appunto il capoluogo. Emergenza nel consorzio universitario di Agrigento, in questo caso consiglio comunale straordinario, subito dopo Pasqua, per discutere dei tagli ai corsi di laurea voluti da Unipa, a rischio anche il corso di archeologia, proprio nella città della Valle dei Templi. Un consiglio comunale straordinario, subito dopo Pasqua, per discutere della situazione del consorzio universitario di Agrigento, alla luce degli ultimi tagli di corsi di laurea operati dall'Ateneo di Palermo. La conferenza dei capigruppo di Palazzo dei Giganti, ha votato all'unanimità la richiesta di convocare un consiglio comunale aperto dedicato esclusivamente alla situazione in cui verse il consorzio universitario. Saranno invitati ad intervenire il presidente del consorzio universitario, Pietro Busetti, il rettore dell'Ateneo di Palermo, Fabrizio Micari, oltre ai componenti del consiglio di amministrazione di Unipa e l'assessore regionale all'istruzione e formazione, Roberto Lagalla. Il consiglio è previsto per il 5 aprile, ma la data potrebbe subire delle varie azioni a seconda degli impegni personali e professionali dei personaggi invitati a partecipare. A richiedere la convocazione del consiglio comunale sull'università, che non sarebbe comunque il primo, è stato il consigliere Pietro Vitellaro. E sembra un paradosso che ad Agrigento, dove insiste il più grande parco archeologico, con i suoi meravigliosi templi, l'unico corso di laurea in beni culturali e archeologia, possa chiudere battenti. Gli uffici di Piazza Marina, quelli dell'Università di Palermo, hanno tagliato quello che si poteva tagliare, prima architettura, poi il corso di laurea in giurisprudenza, e adesso sono agli sgoccioli anche gli ultimi corsi, ancora aperti. Il CUA ha un contenzioso collatoneo da 12 milioni di euro per mancati versamenti dal 2008 ad oggi, un debito altissimo che rischia seriamente di interrompere il rapporto tra Palermo e Agrigento, tanto dover costringere a chiudere dal prossimo settembre il corso in archeologia. Vorremmo puntare sui poli decentrati, afferma il Rettore Fabrizio Micari, ma senza una regolamentazione precisa dei consorsi con il contributo stabile da parte della Regione, non possiamo fare programmazione. A dicembre del 2017 il CUA ha perso pure il sostegno dei comuni di Sciacca e Ribera che avevano legato il proprio nome alla possibilità di sfruttare la vocazione turistica dell'agrigentino. E così il consorzio è rimasto solo ad affrontare una crisi che va avanti da anni. Udienza Lampo di appena 60 minuti, quella che si è tenuta stamane al Tribunale di Palermo che porterà ad una sentenza sull'accoglienza o meno dell'istanza di fallimento nei confronti del Palermo Calcio. È durata appena un'ora l'udienza al Tribunale di Palermo dalla quale emergerà la decisione sull'istanza di fallimento avanzata nei confronti del Palermo Calcio da parte della Procura del Capoluogo. All'interno dell'aula della terza sezione penale per l'occasione adibita a sezione fallimentare le parti hanno potuto presentare per un'ultima volta le rispettive posizioni. Proprio i PM parte avversa al club di Viale del Fante hanno presentato un estratto conto della società con un saldo di 900.000 euro che servirebbero secondo la loro tesi appena a pagare gli stipendi dei calciatori. Chiesta anche una nuova perizia che tenga conto della situazione patrimoniale della Alissa e che indaghi a fondo sull'operazione che permise a quest'ultima di addossarsi i costi che la Nepal aveva contratto per l'acquisizione del marchio Palermo Calcio. Decisione finale che spetterà ai giudici del Tribunale. La società Rosanero dal canto suo vanta l'ultima perizia quella dei tre super esperti nominati dal Tribunale Fallimentare che nella loro relazione hanno certificato l'assoluta solvibilità della società e la condizione stabile delle finanze Rosanero L'udienza è andata bene perfetta le prime parole del Presidente Rosanero Gianmarva all'uscita dell'Aula attesa per la decisione che difficilmente dovrebbe arrivare in giornata più probabile si debba attendere qualche giorno quando per posta certificata il Palermo conoscerà finalmente il proprio futuro e per questa edizione è tutto vi lasciamo alle previsioni meteo grazie per averci seguito arrivederci un ben trovati a un nuovo aggiornamento meteo partita la primavera astronomica ma guardate come ancora un po' tutto il Mediterraneo sarà sede di una zona di bassa pressione con rinnovate condizioni di stabilità su buona parte del sud Italia ed il basso Adriatico meglio invece sulle remanenti zone del centro nord con clima asciutto difatti la prossima grafica ci conferma questa zona di bassa pressione che coinvolge tutti i mari del sud pioggia d'aquazione in giornata parecchia nuvolosità meglio invece sulle remanenti zone del centro nord con maggiori aperture del cielo per quanto riguarda la mappa in sintesi come abbiamo detto condizioni di stabilità al nord in arrivo anche su buona parte di Toscana Lazio in giornata anche Umbria qualche residuo fenomeno invece sul basso Adriatico e poi guardate tutte le zone del sud anche tra Sardegna e Sicilia qualche residuo fenomeno e venti sostenuti con nevicate a quote medio-basse sull'appennino meridionale quindi clima ancora abbastanza freddo per il periodo dettagli più precisi sull'app di Trevi Meteo di Toscana di Toscana di Toscana di Toscana di Toscana di Toscana